Alcuni giorni fa, Matteo Diamante aveva pubblicato su Twitter un comunicato che aveva fatto infuriare il fandom dei Donnalisi, i sostenitori dell'ormai ex coppia formata da Antonalla Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, nata durante la settima edizione del Grande Fratello VIP. Nel corso dei giorni successivi, l'ex di Nikita Pelizzone è stato pesantemente attaccato sui social, in particolare su Twitter, in quanto si è intromesso in una questione che, secondo molti utenti, non gli competeva. Pochi minuti fa, attraverso la piattaforma AIV, Edoardo Donnamaria ha preso le difese dell'amico, visto che mi si rompe il CA asterisco asterisco o per ogni cosa specifica, ho parlato con Matteo, io ho detto che ci sono rimasto male per il post che ha fatto e di evitare in futuro. Abbiamo parlato e si è scusato. Abbiamo chiarito, come fanno due persone civili che si vogliono bene. Allo stesso tempo mi sono messo nei suoi panni, e capisco che sono mesi che prendere critiche e rotture di cogi l'asterisco asterisco ni del tipo sfrutta idonnalisi, e per un ragazzo che lavora sui social e in TV da anni può essere fonte di malessere oltre che una bugia. Rimane comunque un bravo ragazzo e un amico sincero, anche troppo a volte, che però lavorando in questo mondo dà tanto peso ai social, e dopo aver accumulato tanto si è sfogato in maniera eccessiva, come capitato anche a me del resto. Rimane una persona che mi vuole bene, e non solo a me, che ci crediate o no, mi ha aiutato spesso anche in situazioni difficili. Vi chiedo solo un po' di comprensione, perché è una persona buonissima ed estremamente positiva. Solo ogni tanto se deve fallici a asterisco asterisco i sua. Spero capirete.